Radicale, ci occupiamo di scioperi, in particolare di scioperi dei magistrati italiani. Mi sono chiesto in più circostanze se era giusto che i magistrati per qualche motivo di rivendicazione economica o per altre ragioni potessero scioperare. In questi ultimi anni abbiamo visto che le minacce di sciopero da parte dei magistrati e in particolare dell'ANM si sono moltiplicate e mi chiedevo in realtà qual era stato il comportamento del Presidente della Repubblica nei confronti di queste minacce. Allora io sono andato un po' a cercarmi dei precedenti e alla fine ne ho trovati un paio. Uno risale al 1967 di Saragat e l'altro al 1974 da parte di Giovanni Leone. Tutte e due interventi dei Presidenti della Repubblica in qualità di Presidenti del CSM. Io ne voglio parlare con Francesco D'Amato che ha vissuto in prima persona quegli anni politici da cronista parlamentare e che seguiva quotidianamente la politica italiana. Allora, Francesco, cosa possiamo dire su questo argomento? Ecco, io personalmente ricordo perfettamente sia l'intervento di Saragat e sia l'intervento di Leone. E devo dire sconsolato che in questa materia di sciopero dei magistrati c'è stato qualche Presidente della Repubblica, in particolare uno, la buonanima di Francesco Cossiga, che non ha trasmesso ai suoi successori intatte le sue prerogative, come si era invece proposto di fare Napolitano spiegando, ti ricordi, il famoso ricorso contro la procura della Repubblica di Palermo, che l'aveva coinvolto in intercettazioni e non voleva procedere autonomamente alla distruzione delle registrazioni. E lui gliel'ha imposto invece con un ricorso alla Corte Costituzionale. Invece Cossiga, da Capo dello Stato, che pure non ebbe rapporti tranquilli con il CSM, polemizzò molto con il Consiglio Superiore dell'Ambigistratura da lui stesso preseduto, sino una volta a togliere delle deleghe a Galloni, che era il Vice Presidente del Consiglio Superiore, Cossiga consentì che i magistrati scioperassero, anzi ti dirò, consentì che i magistrati scioperassero contro di lui. Ricordati bene uno sciopero del 92, al quale Antonio Di Pietro, allora sostituto procuratore della Repubblica di Milano, si vantò di non partecipare, mettendo un cartello sulla porta del suo ufficio, dicendo che il dottor Antonio Di Pietro non partecipa allo sciopero con il detto, eccetera, eccetera, eccetera. Cossiga naturalmente fu contento di questa dissociazione, tanto che ripagò poi Di Pietro di questo rispetto e di questa simpatia, facendogli una preparazione, un libro, salvo toglia in un secondo momento, consiglia a consentirlo sciopero. E da allora gli scioperi nella magistratura sono diventati in materia quasi normale, insomma. E questo non è un bene, disse bene Saragat che non era ammissibile giuridicamente lo sciopero dei magistrati. Detto da Saragat che era una personalità tutta politica, veniva dalla politica, forse si poteva interpretare questa affermazione del capo dello Stato, una affermazione politica politicamente, ma non basata scientificamente. Invece l'intervento di Leone, nel 74, sette anni dopo, sullo stesso motivo e con le stesse motivazioni, anzi citando espressamente Saragat, diede a questa negazione dello sciopero come cosa legittima da parte dei magistrati, diede una consistenza accademica addirittura, perché non dimentichiamo che generazioni di studenti sono state formate alla scuola giuridica da Leone professore universitario, poi abbiamo avuto Leone costituente, abbiamo avuto Leone presidente della Camera, abbiamo avuto Leone presidente del Consiglio dei Ministri due volte e infine Leone capo dello Stato. Quindi il ragionamento c'era tutto, il magistrato non può scioperare, perché ha una collocazione nella Costituzione innanzitutto molto particolare, per cui si ha il diritto di pretendere dal magistrato anche un comportamento, una condotta particolare. Poi perché è preposto un servizio essenziale, quale è quello della giustizia, un servizio che non può assolutamente subire interruzioni o difficoltà di sorta per una citazione. E poi devo dire che il ricorrere allo sciopero da parte dei magistrati ne riduce molto anche l'autorevolezza e la credibilità. Cioè è un potere che aumenta nella sua invasione, ma perde credibilità nel contatto con l'opinione pubblica. E infatti da allora la magistratura è cresciuta di potere, ma è diminuita di credibilità, di prestigio. I sondaggi le dicono chiaramente a vantaggio della Presidenza della Repubblica, non della politica in senso stretto a dire la verità, ma del Presidente della Repubblica. Allora, dunque nel 1963 il CSM aveva fatto un ordine del giorno in cui aveva detto no allo sciopero. Poi nel febbraio del 1967 è proprio Saragat ad intervenire nel CSM e subito dopo il CSM fa un ordine del giorno a favore delle parole di Saragat. Io cito una parte dell'intervento di Saragat. Lo sciopero, dice Saragat al CSM, è senza dubbio un diritto riconosciuto dalla Costituzione. Esso tuttavia, per lo stesso tenore della norma costituzionale che lo consacra, e cioè l'articolo 40, non è un diritto illimitato, ma ha dei limiti dal momento che questa norma così si esprime. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. È vero che questi limiti, la cui precisazione il precetto costituzionale demanda a riserva al legislatore ordinario, non sono stati ancora da quest'ultimo individuati e sanciti come pur sarebbe stato auspegabile, ma non è men vero che alcuni di essi già esistono, in quanti derivano direttamente e immediatamente da altri principi e precetti della Costituzione, si devono pertanto considerare operanti, aveva detto Saragatta. La stessa cosa fa poi Leone, con minor clamore di quanto poi hanno le parole di Saragatta. Allora, come spieghi il fatto che le parole di Saragatta ebbero all'epoca del 67 un grosso clamore e i giornali misero un po' più in sordina le parole del Presidente Leone. Perché, devo dire, Saragatta aveva avuto un investimento, anzi un'investitura parlamentare molto ampia. parteciparono anche i comunisti alla elezione di Saragatta, con una trattativa con i democristiani, ti ricordi ci fu la Grazia Maranino che fu interpretata come un prezzo pagato per questo. Insomma, Saragatta ebbe un'investitura parlamentare molto larga. Il povero Leone invece ebbe un'investitura parlamentare strettissima, perché fu eletto capo dello Stato alla fine del 1971 come candidato della DC, di risulta dopo il fallimento della candidatura di Panfani e dopo un tentativo fallito in sede di gruppi parlamentari, nonostante l'aiuto ottenuto dal segretario allora del partito Pornani, un tentativo di lancio della candidatura alternativa di Moro. Allora i Dorotei, una parte della sinistra, i Basisti collegati all'esterno con i Repubblicani, lanciarono la candidatura di Leone e si realizzò attorno a questa candidatura una maggioranza praticamente di centrodestra. Leone fu eletto per un voto, alla vigilia di Natale, voto di un esponente monarchico arrivato alla Camera all'ultimo momento in taxi dall'aeroporto. Ci fu anche un seguito polemico nella DC, perché la sinistra democristiana accusò Leone di essere stato eletto con i voti determinanti della destra e Leone, da Presidente della Repubblica, caso senza precedenti, protestò con una lettera al popolo quotidiano ufficiale della DC, allora diretta da Giovanni Galloni. Leone partì come Presidente della Repubblica, non dico con le ali nel piombo, con il piombo delle ali, non dico questo, con le ali imbagnate, ma partì in modo meno sostenuto, meno sentito di Saragat. Però Leone fu un Presidente a tutto tonto, fu un Presidente che ebbe il coraggio di prendere posizioni a quanto difficili, che gli costarono addirittura il Quirinale. Durante il sequestro Moro, lui non solo non condivise la linea della permessa, comunicandolo espressamente a Zaccagnini, convocato apposta nel suo ufficio al Quirinale, ma predispose la grazia per l'abbesuschio, che era contenuta nell'elenco dei 13 detenuti con i quali i picatisti rossi volevano lo scambio con Moro, per mettere alla prova i picati rossi, dicendo che vediamo se lo scambio uno a uno, voi lo respingete e non tornate invece indietro nella decisione. Ma al povero Leone non fu consentito di firmare la grazia, perché i picatisti rossi, informati tempestivamente di quanto stava accadente evidentemente nei palazzi, diciamo, della politica, uccisero Moro la mattina del giorno in cui Leone avrebbe dovuto firmare la grazia. E Leone rimase sempre con questo dubbio. Chi ha informato e chi ha messo i picatisti rossi in condizioni di sfuggire alla prova del fuoco, cui io li volevo sottoporre, e i comunisti, per evitare che Leone ponesse queste e altre domande imbarazzanti sul modo in cui era stato gestito il sequestro Moro, obbligarono Leone a dimettersi, sia pure con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato. Questa è cronaca e ha al tempo stesso storia. E mi spiace che Bertroni, che ha recentemente ricordato su Corriere della Sera Leone le scuse dei radicali a Leone, abbia omesso di riconoscere le responsabilità pesantissime del suo allora partito, a quale era iscritto, pur non essendo stato lui dichiaratamente comunista, eccetera. Mi dispiace che Walter non abbia ricordato queste pesanti responsabilità del PC. Io contesto il PC non tanto di avere reclamato e ottenuto con il consenso della democrazia cristiana le dimissioni di Leone, di contesto di non aver avuto il coraggio di motivarle esplicitamente per punizione per essersi messo di traverso rispetto alla linea della fermezza, aggrappandosi a scuse come la necessità di mandare un segnale di cambiamento politico dopo un referendum che aveva confermato a stento il finanziamento pubblico dei partiti e quindi la scarsa popolarità dei partiti stessi e più in generale della politica. Quello fu un atto disgraziato, secondo me, proprio di punizione per l'esercizio, da parte del capo, tentativo di esercizio da parte del capo dello Stato di un suo legittimo potere, che era il potere di grazia. Impedire poi una trattativa tra virgolette con le Brigate Rosse consentite invece nell'81 con il sequestro a Napoli dell'assessore regionale campano Ciro Cirillo. Una vergogna. Possiamo aggiungere che il fatto che queste cose siano state scritte sul principale quotidiano italiano non depone a favore del principale quotidiano italiano? Certo, sul Corriere della Sera. Sono state scritte sul Corriere della Sera. Corriere della Sera, diretto da Luciano Fontana, che è una persona rispettabilissima, babilissima, che però era il redattore capo di Beltronio all'unità. Anche questo va detto per onestà, perché si sappiano le cose come stanno, da dove arrivano e come arrivano. Allora, ritieni che Mattarella ha due appelli come quelli di Saragat e di Leone proprio al CSM e quelle stesse cose non le direbbe mai lui? Io temo che Mattarella siano le condizioni di non dirle, perché ormai c'è un precedente. Il diritto di sciopero i magistrati se lo sono presi da solo, diciamo la verità. Hanno fatto tra le varie invasioni, tra le varie intrusioni politiche dei magistrati c'è anche questo. Loro si sono preso questo diritto che era giuridicamente inammissibile secondo virgolette, secondo Saragat, sono presi dei fatti perché loro hanno preso più potere della politica, hanno preparato la politica e facendosi del danno, non si rendono conto. Io ho notato giorni fa c'è stata una certa gara a chi fosse più spiritoso tra Caselli, Spataro, Gratteri, alla gara a chi fosse più spiritoso nel dileggiare Nordio per queste prove psico-attitudinali sui magistrati. Non si rendono conto i magistrati con questo affeggiamento di sfida, di chiusura alla politica, di contestazione della sovranità della politica, di perdere loro per primo hanno forza, ma una forza non rispettata e accettata, ma temuta dagli italiani, che non è una bella cosa per un magistrato, non è una bella cosa. Sono temuti come i magistrati in Ungheria, anche quelli sono temuti, ma non rispettati. Bene, io ti ringrazio molto per aver commentato con me queste parole dei presidenti. Grazie a voi radicali che avete avuto l'intelligenza, la capacità per come avete saputo conservare tutto questo materiale di poter riproporre agli ascoltatori, ai lettori documenti essenziali della vita politica e istituzionale di questo paese, consentendoci di capire come su questo terreno sono cambiate le cose via via senza farsi che gli italiani se ne accorgessero e rendessero conto, ma sono cambiate rovinosamente. Cioè, noi, a Costituzione invariata, perché la parte della Costituzione riguardante i magistrati, i garantici dei magistrati è rimasta invariata, è cambiata soltanto quella parte sui processi che devono avere una durata ragionevole, a Costituzione invariata i magistrati sono riusciti a portare a casa il loro diritto di sciopero. Pensi che un giorno si arriverà anche al Presidente della Repubblica, potere per potere del Presidente della Repubblica che sciopera, il Parlamento che sciopera, ha visto che lo possono fare i magistrati. Era una domanda che si pose a Calogero sul panorama, commentando proprio il discorso di Leone e il precedente discorso di Sara che disse qui, se ammettiamo lo sciopero per i magistrati che svolgono una funzione sovrana addirittura, lui lo diceva, una funzione della giustizia, dipendono solo dalla legge, quindi, se scioperano i magistrati, perché non debbano scioperare allora anche i politici, i parlamentari e perché non deve scioperare il Presidente della Repubblica e pensare che il Presidente della Repubblica Giovanni Leone aveva bene il diritto di scioperare nel 78 quando li reclamarono e ottennero le divisioni per avere lui cercato di esercitare il suo mandato in materia di grazia. va bene io ti ringrazio molto naturalmente voglio citare alla fine di questa intervista le fonti che noi abbiamo consultato perché insomma non vorrei che qualcuno pensasse che noi ci siamo cioè che io mi sono inventato qualcosa allora abbiamo citato un ordine del giorno del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 dicembre del 1963 contro lo sciopero le parole del Presidente della Repubblica Saragat il 21 febbraio del 1967 al Consiglio Superiore della Magistratura e l'ordine del giorno che fu approvato quel giorno e poi ci siamo riferiti all'intervento del Presidente della Repubblica Giovanni Leone nella seduta del Consiglio Superiore della Magistratura del 28 gennaio del 1974 alle ore 17.30 nel plenum del Vice Presidente del Consiglio era Jacinto Bosco che poi sarebbe diventato Ministro della Giustizia eccetera eccetera ho capito bene grazie speriamo di aver fatto un servizio insomma a qualcuno nel senso di aver dato delle informazioni a qualcuno per capire un po' se è giusto che i magistrati scioperino o meno grazie grazie come sempre a Francesco D'Amato grazie a voi grazie a voi